ciao a tutti oggi prepareremo la panna cotta cannella e menta il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più il tempo di riposo in frigo gli ingredienti sono panna per dolci latte intero zucchero foglioline di menta cannella in polvere gelatina in foglie ammollate in acqua fredda e liquore alla cannella che è facoltativo diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero le foglioline di menta e la cannella ed azionare bimbi per 15 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la panna il latte e il liquore alla cannella che è facoltativo ed azionare il bimbi per otto minuti 80 gradi velocità 1 aggiungere i fogli di gelatina ben strizzati ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4 trasferire il composto in uno stampo in silicone lasciare raffreddare e riporre in frigo per almeno 12 ore panna cotta cannella e menta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti